San Giovanni e Mr. Rain hanno copiato Lazza? È partito tutto da questo tweet quando Lazza ha fatto intendere che qualcuno ha copiato la sua canzone Panico. I suoi fan sospettano che lui si riferisca alla nuova canzone di San Giovanni e Mr. Rain. Ti metto a confronto alle due canzoni e poi scrivimi nei commenti la tua opinione. Panico, come sempre dimmi.